Noi siamo gli autori di Parma Crack dell'Europa League al fallimento in meno di un anno vi aspettiamo da Beppe su Radio Revolution presenteremo il nostro libro e vi racconteremo un po' di cosa parla anche se mi sa che molti di voi già lo immaginano io sono Niccolò Fabris Martello Volta Silvia Bia Raffaele Castagna e niente, vi aspettiamo su Radio Revolution da Beppe